A questo punto la situazione è che il 5 ottobre, dopo 32 ore di sciopero, avremo un incontro con la direzione presso l'Unione Permanente Industriale. Ci aspettiamo il piano industriale, vogliamo capire cosa sarà la cerve domani, perché ad oggi ancora questa idea non ce l'abbiamo. Sappiamo soltanto che ci sono 128 esuberi, su un totale di 471 persone, ma non sappiamo quali sono i progetti per l'azienda che verrà.